mi spiega che cosa stiamo facendo? Stiamo usando una cornice con la nostra famiglia ci troviamo qui a Marzanemi e all'interno di un mercato vendono degli oggetti, fatti penso a mano, dove ti puoi comporre la famiglia la mamma, Giorgia, Giorgia, Lucio e il fiore, il nostro coniglietto e dopo vi facciamo vedere il risultato finale e allora ragazzi, guardate il lavoro finito, Giorgia, che ne pensi? bellissimo bellissimo, promosso? sì possiamo portarlo via? sì ok